o buongiorno ragazzi eccoci qua ancora una volta sul canale tecno alex 73 e oggi vi faccio vedere qualche gesture di questo samsung galaxy tab s6 l'ultimo tablet di casa samsung top di gamma e mi raccomando restiamo in casa aiutiamo a debellare questo coronavirus vai o eccoci qua con il nostro tab s6 con la sua penna potete vedere se si mette bene a fuoco il suo bottoncino allora lo mettiamo sulla pagina iniziale ok se teniamo premuto il tasto si apre la fotocamera un clic ha scattato la foto come potete vedere ok questa eliminiamo due clic cambia la visuale due clic ritorna indietro ok poi se io ho sposto da una parte all'altra in teoria sulla galleria andiamo a vedere non ci sono affatto il video che apriamo la galleria normalmente allora sulla galleria e apriamo una così ok in teoria spostando da destra a sinistra o sinistra destra adesso proviamo tenendo schiacciato il bottoncino dovrebbero scorrere quelle che sono le varie foto proviamo no c'è aperto c'è aperto un menu eccolo qua ce l'abbiamo fatta ma siccome prima non l'avevo ancora fatto mi ha detto che con un tocco posso andare avanti con due tocchi torno indietro perfetto comunque vedete le gesture come funzionano vedete un tocco un tocco un clic che poi è un clic perché si clicca una volta vedete allora faccio vedere così si vede un clic un clic va avanti due clic torno indietro se lo teniamo premuto si torna la fotocamera un clic una foto due clic scatta selfie con facilità due clic e quindi rigira quella che è la fotocamera ok quindi queste sono alcune delle gesture che si possono fare con questo tablet galaxy samsung s6 vedete anche se agito la penna gira diciamo che ci sono tante gesto verso le guarderò tutte vediamo un attimo se se merita un altro video per raggiungerne ancora delle altre mi raccomando i polliccioni questo video era tanto per vedere un attimo come funzionano queste gesture del samsung galaxy tab s6 e mi raccomando restiamo in casa aiutiamo lo stato la nazione a debellare questo virus ciao e alla prossima